Ciao a tutti! Siamo qui per un nuovo video tutorial che riguarda la registrazione dei brani in SIAE, quindi il deposito dei brani in SIAE. In questo caso specifico, questo video riguarda il deposito di un brano dove ci sono due autori, due compositori. Nel caso, in questo caso specifico, un brano strumentale dove ci sono due compositori. Farò altri video con altre tipologie di combinazioni, come ad esempio come si fa un deposito con un brano dove c'è un autore del testo, due compositori, eccetera. Sono casi differenti, quindi è giusto trattarli in maniera differente. Prima di però vedere questo video dovete chiaramente registrarvi in SIAE. Attraverso una procedura molto semplice, si fa tranquillamente con l'app SIAE. Io ho fatto tutto da telefonino, quindi se volete scrivetemi sarò lieto di aiutarvi, nei limiti chiaramente del possibile. Vi ricordo che la SIAE è gratuita sotto i 30 anni, mentre invece sopra i 30 anni ci sono delle quote da pagare. Quindi cosa fare una volta che si è completata la procedura di registrazione e si è attivata la firma digitale? Basta accedere al sito SIAE e cliccare sul nuovo portale, autori ed editori. Aspettiamo che il sito SIAE chiaramente si carica. Ovviamente sempre molto celeri, diciamo che non si smentiscono mai, ma debbo dire che c'è stato un upgrade abbastanza significativo nell'ultimo periodo. Ecco, oh se vi piace questo video ovviamente, mi viene in mente la campanella qui, cosa c'è? Questo è un deposito che avevo precedentemente fatto e mi sta dando la notifica che è stato effettuato. Se vi piace questo video iscrivetevi al canale e chiaramente mettete like sul video. Una volta entrati quindi in questo portale, mi raccomando non vi confondete, ci sono due portali. Quello che dovete andare è a cliccare nuovo portale autori ed editori. Andiamo su deposito online, opere musicali. Aspettiamo quindi che ci apre questa finestra, questa nuova schermata. Ecco, quindi clicchiamo sul nuovo deposito. Qui inizia la procedura del deposito dell'opera. In questo caso io andrò a depositare appunto un brano strumentale dove ci sono due compositori e questo chiaramente va stabilito prima. Noi abbiamo stabilito che di dividere le quote 50 e 50, quindi semplicemente metà e metà, ecco, per dirla diciamo in maniera semplice. C'è quest'ep che è debunk, che è un nuovo ep a cui ho lavorato, dove l'altro compositore è Sebastiano Lisbona. In arte Sebbi Lisbona e ho fatto questo file di Excel perché chiaramente mi devo ricordare le quote. Allora, quindi, offset, vado a depositare questo brano, si chiama appunto offset dove le quote sono appunto 50 e 50, quindi sono state divise esattamente a metà. Quindi scrivo titolo dell'opera, offset, controlliamo che è scritto in maniera corretta, perfetto, offset. La lingua è quella relativa al titolo, quindi in questo caso inglese perché la lingua del titolo è in inglese. Qui, ecco, se tipologia opera siamo senza editore, quindi senza etichetta, quindi scriverò senza editore. Musica chiaramente originale, il testo non c'è, quindi lascio no. La durata, la durata va indicata così, devo andare a prendere il brano. Non è questo, vediamo. No. Offset, lo vado a rinominare perché così non va bene, devo lasciare soltanto il nome. Ecco, cosa molto importante, lasciate soltanto il nome dell'opera. Quindi in questo caso offset, questa con lo spazio, come è... Vi raccomando che il titolo del file deve essere lo stesso titolo che avete messo qui, eh. Sono piccoli errori però bisogna fare attenzione. Allora, la durata di questo brano è... Ok, quindi 3 e 45, perfetto. Quindi 0, 0 ore, 0, 3, 45. È la durata del brano. Testo abbiamo detto di no. Seleziona, nel mio caso, il genere elettronico. Nel caso in cui è genere elettronico potete depositare soltanto il file in mp3 o in wav o in aif. Non è necessario appunto allegare la partitura. In questo caso possiamo andare. Non è un'opera audiovisiva. Questo no. Ecco, validità territoriale. Mi raccomando, tutto il mondo è già selezionato. Qui è valida la distribuzione e i copyright, insomma, sono validi in tutto il mondo. State attenti qui perché certe volte quando vi capita magari che pubblicate qualcosa di non vostro e vi dice che non è disponibile in alcuni paesi è proprio qua la chiave del discorso. Quindi lasciate l'impostazione per com'è. Non la cambiate. Tutto il mondo. Validità tutto il mondo. Andiamo avanti. E scusate che metto in silenzioso il telefonino. Eccolo qui. Lo schema di riparto. Il famosissimo schema di riparto. Allora. Come funziona per lo schema di riparto? La qualifica. Qui ci sono diverse tipologie di qualifiche. In questo caso è CO, compositore. Dovrebbero comparire anche compositore d'autore, elaboratore d'opere, ma in questo caso non mi compari. Io penso che sia un problema relativo al sito della CIA di oggi. Cosa molto probabile perché ieri mi compariva. Quindi non capisco perché non sta attualmente comparendo. Comunque, io sono compositore, quindi mi aggiungo come compositore. Le quote, in questo caso, sono state indicate come 12 e 12. Quindi segno qui 12 e 50. Devo indicare l'altro autore. Per indicare l'altro autore, io dovrei averlo salvato tra i preferiti. Perfetto. Lisbona, Sebastiano. Se non ce l'avete salvato tra i preferiti, fate cerca 20 diritto. Una volta che scrivete nome e cognome, quindi il cognome della persona, mettiamo caso, non so, di Stefano, cognome, nome, Antonino. Vi fate dare la posizione si hai, che è questo numeretto che c'è qui. E ve lo dovete fare dare dall'altra persona. Lo cercate e poi vedrete l'opzione inserisci. In questo caso io ce l'ho già tra i preferiti e poi potete salvarlo anche tra i preferiti se è una persona con cui spesso collaborate. Io l'ho salvato tra i preferiti, quindi andrò a richiamare Lisbona, Sebastiano, che è l'altro ragazzo che appunto ha composto il brano. E metto inserisci. Aspetto che viene inserito. Ed ecco che, come vedete, c'è l'altro autore. Quindi inserisco compositore anche lui. E qui 12,50. Vedete, vi fa il calcolo. Quindi in questo caso io ho fatto tutto correttamente perché le quote mancanti sono 0,24 e 0%, e risultano alla fine 24,24 e 100%. Quindi le ho distribuite in maniera corretta. Cosa succede se qui non metto 12, metto un numero inferiore o superiore che qui mi dà errore. Quindi quando volete dividere diciamo una composizione 50 e 50, questa può essere una formula sicuramente corretta. Quindi dividere esattamente 24 diviso 2, 12 e 12 e 100 diviso 2, 50 e 50. Quindi semplicissimo. Andiamo avanti. Procedi. Ecco qui. Abbiamo detto che è musica elettronica, quindi questo è lo step che riguarda appunto gli allegati. È musica elettronica, quindi non è necessario depositare le partiture in PDF. Possiamo depositare mp3, wav, if, direttamente le registrazioni. Quindi andate in basso e depositiamo registrazioni. Quindi aggiungi, ecco. Ricordatevi qui il nome dell'MP3. In questo caso il mio è MP3, ma potete appunto mettere wav, if, deve essere lo stesso nome con cui state depositando l'opera. Quindi inseriamo, scegli, offset. Aspettiamo che carica offset. Io vi consiglio di caricarlo in mp3, però, insomma, se volete caricare i wav, passa un po' più di tempo, potete caricare tranquillamente in mp3. O in AC, ancora meglio, perché sono i formati con cui poi la musica gira nel web, alla fine è formato compresso. Bene, possiamo andare avanti, quindi procedi. E ricontrolliamo tutto quanto che sia corretto, perché possiamo sempre tornare indietro. Il titolo dell'opera offset, la durata, elettronico, va bene, senza editore, mondo, ecco, vedete, validità territoriale, tutto il mondo, deposito nuovo, le quote, che sono corrette, e il nome in allegato offset, che è uguale al nome che abbiamo depositato. Quindi direi che ci siamo. Ricontrollo io di nuovo, però, perché sto facendo il deposito in questo momento. Offset, offset. Con Lisbona Sebastiano vi consiglio di seguire, che è un giovane compositore di musica synthwave, molto, molto, molto bravo. Presa visione e accettazione dei termini e condizioni. Ed ecco, qui arriva la famosa firma digitale. Invii sms, quello che vedete è censurato chiaramente il mio numero di telefono, sopra vi compare il numero di telefono, e vi arriva un sms, in questo momento, dovrebbe arrivare. Eccolo qui. Che è il codice che è stato generato in questo momento. Firma. Attendo che questa procedura termina in maniera corretta. Il deposito è stato firmato correttamente. Cosa succede in questo momento? Che mi dice, appunto, devono ancora firmare questa persona qua. Quando questa persona qui accederà a SIAE, quindi avvisate questa persona che avete effettuato la procedura, o se la fa questa persona, viceversa, vi avviso a voi. Una volta che entra nel profilo SIAE, si trova questa notifica qua, cioè che deve firmare questo deposito. Una volta firmato il deposito, premete X e tornate di nuovo alla schermata precedente. Vi ricordate quella lì di nuovo deposito. Ecco qua. In questo caso, avete in attesa di altre firme 1, che è quello che abbiamo fatto, e inviati online 2. Questa notifica che ho ricevuto io riguarda un'altra traccia che ho fatto sempre con la stessa persona stamattina, e come vedete mi è arrivata la notifica perché questa persona si è collegata, e quindi ha firmato anche lui, e quindi la pratica è passata da in attesa altre firme a inviati online. Cosa succede da questo punto in poi? Che da inviati online passerà in lavorazione e poi in acquisiti. Quando arriverà in acquisiti il vostro deposito sarà effettivamente presente nel database SIAE. Ora, da questa fase qui inviati online ad acquisiti può passare anche molto tempo. Dipende. Quindi dovete ogni volta controllare e vedere lo stato di avanzamento della vostra pratica attraverso questa finestra. Bene, se vi è stato utile questo video, iscrivetevi al mio canale, e vi lascio giù i link relativi che vi possono servire da consultare assolutamente, e farò altri video con altre combinazioni di schema di riparto, ovvero di divisione delle quote SIAE. Grazie.